Mezzogiorno e venti di un'ora solare, buongiorno, bentrovati, molto, 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 molto solare. Allora, cantautore, non ci sono dubbi, uomo di musica, non ci sono dubbi, conduttore, non ci sono dubbi, showman, il migliore che possiate immaginare. Teoricamente sulla carta ha anche perito elettronico, ma dice di sé, non so avvitare nemmeno una lampadina, se ci provo, rischia di saltare tutta la centralina elettrica di, ma questo ve lo diciamo tra un attimo, sarà lui a dirvelo perché di strada, lui, dal suo paese di origine, che pure porta sempre nel cuore, ne ha fatta veramente tanta, festeggia quest'anno 35 anni di una carriera luminosissima, è un uomo meraviglioso e amo dire questo, è una persona per bene e poi è lo spettacolo, è Paolo Belli! Ma no, ma è matta, è matta, io ricordavo che tu eri una ragazza... Venga qua, venga qua, venga qua, ti ricordavi che ero una ragazza, infatti? No, no, fammi finire, grazie, buongiorno, io ricordavo che tu eri una ragazza sincera, io ero detto, senti, ti hai sparato un'infinità di stupidate. Ma non ho parole, ma non ho parole. No, ma sono io che sono in imbarazzo. Paolo Belli, oh, tu sei! Grazie. No, 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 guarda. Allora, vi spiego, prima, quando sono andato, io ho pagato, ho detto, dai, parla bene di me, però non ho pagato così tanto, quindi tu sei... Io ho anche detto nel lancio, sua maestà, Paolo Belli. Sì, allora prego, maestà, sia comodi. Perché Paolo? È meraviglioso. Io sto aspettando l'inaspettato, deve succedere qualcosa di... Se ne succedono oggi, ti abbiamo qui, è la gioia più grande che tu ci potessi dare. Allora, abbiamo tantissimo da dire, abbiamo anche da raccontare attraverso uno spettacolo teatrale che narrerà i 35 anni di carriera di Paolo, tantissime cose, ma quello che mi sta più a cuore è la tua terra d'origine, proprio il luogo, 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 il luogo Paolo Belli, nella splendida terra d'Emilia. Qual è? Allora, io sono nato a Formigile, in provincia di Modena. Sì? Però dopo pochissimi giorni sono andato a vivere a Salvaterra, in provincia di Reggio Emilia, perché i miei nonni avevano un forno, facevano i fornaie e avevano bisogno di manodopera. Quindi mia madre e mio padre sono andati... Sei tu? No! Guarda che bel pacioccon! Un pacciocco, un bingo pacciocco! Come fate ad avere questa roba qua? Allora, solari, abbiamo sempre tutto. Vabbè, insomma, dicevo, sono andato a vivere a Salvaterra, in provincia di Reggio Emilia, per vent'anni, poi ho conosciuto mia moglie che è carpigiana, è stato a vivere a Carpi, in provincia di Modena. Quindi sappi che è nato a Modena, però per vent'anni vissuto a Salvaterra e mi dicevo, stai zitto tu che non capisci niente che sei un modenese. Eh, ma certo! Adesso che vivo a Modena, in provincia di Modena, stai zitto e non capisci niente che sei un reggiano, che sai che il campanilismo... Cioè, io nella vita non ho mai capito niente. Non ho mai capito niente? Però una cosa, una cosa ho capito, vivo in una terra meravigliosa, che sia Modena, Reggio, Carpi, non che dalle altre parti sia meglio o peggio. Io credo di vivere in un posto meraviglioso perché c'è ancora questa grandissima voglia di stare in mezzo agli altri. La nostra terra è una terra dove musica, cultura, feste, lavoro, si fa sempre con e per gli altri. Maolo, sei stato tu a raccontare che tua nonna ti raccontava che quando c'erano i bombardamenti bisognava scappare sotto nei rifugi. E non ci si doveva dimenticare la fisarmonica. Chi sapeva suonare non doveva dimenticare che doveva prendere con sé uno strumento, perché se c'era da morire si moriva felice, perché la musica ti rende felice. Quindi è una cosa che mi ha sempre raccontato... Eccola qua! No, ma vabbè! Eccola qua la nonna! La nonna Lina, con mio fratello, quello sotto, quello piccolo è mio fratello, con la maglia righe sono io. Ma dove veramente trovate queste robe? Ma scusa, ma tu sei Paolo Belli? Basta chiedere e le cose arrivano. Nonna Lina era fantastica perché mi raccontava il fatto di quanto sia importante stare con gli altri e far stare bene gli altri. Però è anche quella persona che mi ha insegnato l'importanza del silenzio. Sì, sì, mi diceva che per stare bene con gli altri bisogna anche stare ad ascoltare gli altri. Sì, saper ascoltare. Esatto. Allora, vi sembrerà incredibile, ma lui sa ascoltare. Incredibile perché lui sa parlare, sa cantare, sa ballare. Sa essere tutto Paolo Belli. Ancora più perché ha costruito questa carriera con l'intenzione di farla talmente bene, con tanta, tanta, tanta serietà, che gli è riuscita perfettamente. Non ha lasciato neanche una cosa indietro. Lui si ricorda le partite di pallone nel suo paese 30 contro 30. Questa cosa mi ha fatto tanto ridere. Una confidenza con la musica che tu prendi fin da piccolo in questa terra gioiosa d'Emilia dove si canta. E a un certo punto, quando tu dici al tuo meraviglioso papà vorrei un pianoforte, quanti anni hai quando tu esprimi questa testa? Avevo appena finito la quinta elementare. Quindi dieci anni. Quindi dieci anni. E papà ti risponde? Io dissi, papà voglio il pianoforte. Eh, compralo. Però non è che mi ha detto compralo. Tieni. Tò, i soldi. Ho detto compralo. A quei tempi non si parlava neanche di sfruttamento minorile. Chiesi a un signore che abitava vicino a casa mia che aveva un apprezzamento di terra molto importante quindi chiesi se potevo andare a lavorare. E per i tre mesi d'estate sono andato a lavorare e sai quando si dice la terra, dalle mie paese, la terra è bassa. La terra è bassa, sì. Che è proprio tanta fatica. È bassa la terra, sì. Però ricordo che con i soldi che avevo guadagnato in quei tre mesi lì riuscii a comprare una tastiera e aveva sette tasti rotti. Non lo dimenticherò mai. Per me era la tastiera più bella del mondo, era usata chiaramente. E disse mio papà, guarda papà, guarda che bella. Però c'ha sette tasti rotti. E usa gli altri. Un genio. Adesso, onestamente, onestamente. Papà Guido è un genio. Infatti quando mi sentite suonare, sentite che sbaglio. Non è che sbaglio, è che non posso suonare quelle note perché io non lo... Perché mancavano i tasti. Come no? Lui sbaglia. Signori, si scrive al conservatorio, tutto pieno, posto in piedi. Lui che cosa fa? Fagotto. Ed è una storia meravigliosa questa perché il fagotto, eccolo qua, guardatelo questo giovanotto lungo, folto crinito. Il fagotto si deve... Allora, il fagotto sono tre pezzi. Sono tre pezzi di legno che mi ha montato. Innanzitutto, appunto, vado al conservatorio, le cattedre erano tutte piene. Nel che mi dicono, guarda, la cattedra di fagotto è abbastanza libera. Se ti vuoi iscrivere, ok, mi iscrivo. Mi danno lo strumento per portare a casa costa un botto. L'ira di Dio. Intanto me lo danno loro per esercitarmi. Arrivo a casa, la prima cosa che mia madre mi ha detto è, cosa hai rubato? No, non ho rubato niente. Mamma, me l'hanno data al conservatorio. Quando l'ho aperto, ci sono questi tre pezzi di legno. Ecco, l'ha già rotto. Non ho rubato niente. Paolo, Paolo. Questo per farti capire che tipo ero da piccolino. Che tipo era da piccolino, un suggerimento per i ragazzi, o le ragazze che amano fare musica. Paolo ha suonato di tutto. Suonava, una certa ora era rock, poi diventava liscio, poi diventava waltzer, poi diventava... E questo fa la somma, tirata tutta, dalla quale esce fuori Paolo Belli. Noi ne parliamo tra un attimo. Allora Solare, lui è veramente in studio qui con noi. Io, la donna più felice del mondo. A tra poco. Grazie. Grazie a sapere queste cose. Nome Paolo, cognome Belli. E ce n'è uno solo. Bentornati all'ora Solare. Allora, poi ne parliamo in maniera ancora più approfondita. Però, per festeggiare 35 anni di una carriera luminosa, io credo che questa sia la sintesi perfetta per raccontare questo showman assolutamente perfetto, perché lo è anche come persona, pur di far commedia. Poi ne parliamo più approfonditamente e diamo anche una serie di indicazioni. Questa commedia è... E' il racconto di un sogno, Paola. Io da bambino sognavo di fare esattamente quello che sto facendo da 35 anni. Infatti lo dico piano piano. No. Quando alla sera mi pagano, dico, questi sono matti. Se sapessero che lo farei anche gratis, hai capito? Però lo dico piano perché magari mi prendono in parole. Non ti abbiamo sentito. No, però è vero. Io da bambino sognavo di fare quello che sto facendo. Ora, lo dico con grande serenità. Non so se sono capace di farlo. Dai, non voglio nascondermi dietro un dito. Probabilmente qualcosa so fare. Perché se da tanti anni me lo fanno fare, qualcosa riesco a fare. Credo fondamentalmente, e questa è la cosa che raccontiamo nello spettacolo, io sono riuscito a fare delle bellissime cose, cioè realizzare i miei sogni, perché sono un bravo allenatore. Sono riuscito a costruire un gruppo familiare prima e artistico poi, dove riesco a esprimermi molto bene. E questa cosa qua raccontiamo nello spettacolo. La conclusione dello spettacolo è proprio questa. Sognate, sognate. Uno, perché i sogni sono gratis. E due, perché si avverano. E se si è avverato con me, ce la può fare chi? Allora, applauso, vi prego, voi che potete. Io da sola sembro una foca, ma lo faccio lo stesso. Allora, prendete tutto ciò, mettiamo un asterisco e poi ne riparliamo di questo spettacolo. Lo credo che il comune denominatore della vita e del successo di Paolo Belli sia, e anche della vita familiare di Paolo Belli, sia la verità. Essere sempre trasparenti, essere diretti. Il pubblico ti riconosce perché tu sei diretto e vero. E lo sanno bene quelli che ti hanno conosciuto, vedi Luciano Ligabue, tutti in piedi, che tu incontri nella vostra Carpi, devo dire, a questo punto. Correggio, perché siamo proprio sul limite. Correggio, chiedo scusa, maestro mi perdoni, 1983, insomma, in questo clima, dove tu la musica oramai la mastichi, la ruota gira, gira, devo dirlo per forza, la ruota gira, in omaggio al grande Vittorio De Sica, nasce l'Adele di Biciclette. E quel momento ce lo ricordiamo tutti Paolo, perché è rimasto qua, nel cuore, perché sei arrivato dritto come ho sete, vorrei un bicchiere d'acqua fresca. Tiè, sei arrivato tu, è arrivato il bicchiere d'acqua fresca. E tuttora le persone spesso mi chiamano, eh ladro, ladro di biciclette, ladro... Cioè, quindi è stata una roba, come hai detto te, molto forte. Ma quando uno fa le cose che gli piacciono, poi arrivano... Tu hai parlato di Luciano. Luciano perché è forte? Eh. Scrive benissimo, ma soprattutto perché scrive quello che è. Cioè, io credo che in tutti i nostri mestieri, soprattutto quegli artistici, no? Quelli che quando poi devi emozionare gli altri, se sei sincero arriva, se sei finto, prima o poi... Arriva. Anche quello, arriva anche se sei finto. Allora, cerco di dare tutti i numeri, ma insomma, nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo, torna nel 1991, vince il disco verde al Festival Bar nel 1989. Allora, il disco d'oro, sotto questo sole, arriva a fare il gemello. Ma chi non la balla questa? Scusate. Ma chi non ne ho chieda vedere, sotto questo sole bello, la cosa straordinaria è che ogni volta che canto questa canzone, penso veramente che lassù c'è veramente qualcuno che... Qualcuno mi ama. No, no, c'è qualcuno che detta veramente delle energie meravigliose. Perché quando la canto, sotto il palco ci sono dei ragazzi che non erano neanche nati quando io ho scritto... Anche erano nella testa dei futuri genitori. Invece questa cosa qui, ora, lascia perdere le due proporzioni, però è un po' come quando ascolti Mozart o come quando ascolti Bruce Springsteen, ci sono delle cose che arrivano addosso alle persone ed è qualcuno lassù, capito, che fa questa cosa qua. Quindi mi meraviglia, ma non più di tanto. Capisco proprio il fatto che quando tu arrivi con una canzone di successo e resta nel tempo, perché tuttora le persone cantano, sei riuscito a prendere una roba che era arrivata dall'altro e tu l'hai solo messa sul pentagramma. Tu sei molto tenero, sì, sì. No, sono consapevole. Certo, ma io a questo credo profondamente. Io credo che le persone profondamente buone, profondamente perbene, ripeto tutto questo Paolo, e adesso entra in campo la signora Deanna, che ci sta vedendo in questo momento, noi la salutiamo. Ah, non scappa niente? No, non scappa niente, Deanna. Ora parliamo di lei, ora parliamo di lei, di te, Deanna, parliamo di te. Ecco, tutto questo, questo arrivare da chissà dove, da lassù, ha fatto parte della tua carriera, perché c'è stato il momento del grande boom, della grande ubriacatura meritatissima, no? E poi c'è stato un momento di silenzio, nel quale quella splendida donna che ha scelto te e tu hai scelto lei è stato il tuo cemento per rendere il muro portante di casa ancora più portante. Guarda, ti faccio, sì, assolutamente sì, ti faccio un esempio. Non parliamo di quando è successo il periodo brutto che lei comunque era lì e mi ha detto, non ti preoccupare, ci sono io. Ti parlo di ieri sera. Ieri sera. Ieri sera. È successa una cosa che mi ha fatto molto male. E sai, ormai sei grande, vedi il mezzo bicchiere pieno, io guardo sempre il mezzo bicchiere pieno e mi baso su quello, hai capito? Giusto. Però fai dei progetti anche, no? Per il mezzo bicchiere vuoto. Sì. E invece poi a volte non si avverano i desideri. e chiaramente parli con chi sai che ti puoi relazionare in maniera importante, sincera. Lei mi ha detto quello che mi ha detto. Pa, non ti preoccupare, ci sono io, ma qual è il problema? Poi non è adesso, sarà più avanti, non lo sarà, ma abbiamo già avuto tutto dalla vita, siamo apposta così, non ti preoccupi. E questa è lei, eh? Guardate, tutto quello che non arriva da una porta, arriverà da una porta finestra sul tetto, dove improvvisamente una corrente d'aria porterà qualcosa di ancora più importante di quello che teoricamente non è arrivato. Io ho fatto mio il suo pensiero, ma che non ha fatto altro che confermare ciò che penso. Nella vita, come ho detto all'inizio, io sognavo di fare quello che faccio da sempre. Io non mi posso lamentare di niente. Ieri sera non è successa una cosa che mi aspettavo, ma come si dice a Farigi, ma chi se ne frega? Cioè, vuole dire, alla fine... Ma tesoro, ma sei meraviglioso! Super Paolo, super Paolo! No, ma Paola, poi ci sono delle cose molto importanti nella vita. Innanzitutto questo, cioè io ho avuto... Ci sono persone che si separano, ci sta, si trovano altre persone, per l'amore di Dio. Io però ho avuto la fortuna di trovare una persona con la quale mi relazionavo... Amante, moglie, sorella, amiche... Quanti anni state insieme? 43 anni. Pensa a questa persona che ha sacrificato... Bambini! Bambini vi siete trovati! Sì, sì, ma no, ma è una persona che ha deciso la sua vita... È una suora, diciamo così, cioè lei è... Le danno le 104, cioè proprio... È una persona che ho avuto la fortuna di incontrare per caso, ci siamo incontrati proprio da subito, ci siamo confrontati da subito, ci confrontiamo tuttora, è una persona con la quale la amo da morire, ma è anche una confidenza importante. È una complice. Complice. Anche, anche, però è soprattutto la parte veramente, la parte opposta della luna, no? Cioè lei è quella che quando tu vedi chiaro dice... Ehi, 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 non è tutto chiaro. Quando vedi scuro, ehi, 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 non è tutto scuro. Ma che cosa vogliamo dire di più? Queste sono, queste sono le dichiarazioni d'amore più importanti. Poi sapete esattamente quello che succederà. Ma questo è il lavoro che sapete fare voi donne. Sai che noi uomini siamo basici. Voi sapete fare tutto contemporaneamente. Sì, e parte l'applauso del pubblico femminile è tutto. Però è così. Però, però, sai, sì, Paolo, sì, va bene, però già dirlo da parte di un uomo è un... Ma è consapevolezza. Sono vecchio ormai, cioè so come stanno le cose. Ma che vecchio. Capisco ancora che sono talmente così basico che veramente dovrebbero dare, a voi donne, dovrebbero dare molto di più. Grazie, Paolo. Cioè, veramente. Lo credo anch'io a questo. Lo dico da sempre, se il mondo fosse in mano alle donne non ci sarebbero guerre. Ma nessuno fermamente è convinto. Nessuno fermamente è convinto anche io, Paolo. Bravo, 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 bravo. Allora, qui ne stanno succedendo troppo. Intanto, grazie a Piero Chiambretti, mi sono emozionata. Perché? Perché in quel periodo che fu di parziale silenzio dove Anna diceva, ma per carità, ma si va, ma dove è il problema? Geniaccio Chiambretti ha chiamato, ha detto, senti, avrei una proposta da farti. E da lì è iniziata, anzi è proseguita, anzi è scoppiata come una bomba di coriandoli, questa meravigliosa carriera che vede tanti amici accanto a lui, tanti, ma tanti. Gli vogliono tutti bene. Questa cartolina, la prima, lo dimostra. Cartolina per Paolo Belli. Cara Paola e caro Paolo, soprattutto, non potevo mancare a questa commemorazione di Paolo Belli, alle mie spalle come vedete c'è un piccolo televisore, non a caso, cioè l'ho messo lì apposta perché è questa televisione la cosa che ci ha fatto incontrare, insomma, quando ho conosciuto Paolo, Paolo era già una realtà musicale, insomma, con la sua big band e poi ancora prima con gli altri di biciclette, però io l'ho incontrato in un palasport mentre faceva il suo show, c'erano tutti questi in giocca e cravatta, ricordo erano tutti i dirigenti d'azienda e dopo un quarto d'ora, 20 minuti di musica, tutti si erano già levati la cravatta, erano saliti sul palco a fare casino. Ecco, ho letto questo suo modo di coinvolgere, questa sua musica trascinante, quel suo modo di essere personaggio presente, no? Io pensavo di fare questo programma un po' ispirato alla televisione degli anni 60, 70, i grandi varietà di Walter Chiari, di Mina, di ritornare un po' là, insomma, in quegli anni in cui si erano andati un po' tutti verso la comicità di tre minuti del drive-in, insomma, e lui mi ricordava i grandi direttori d'orchestra televisivi come Gorni Kramer, eccetera, eccetera, quindi mi piaceva molto il suo swing anche, no? Che poteva essere molto bello da portare in televisione e anche come accompagnamento delle grandi star che poi sarebbero state ospiti dei nostri programmi. Ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto anche insieme una grande tournée teatrale, poi insomma, come dice Renato, il carrozzone va avanti da sé e Paolo era un po' dimagrido, ma all'epoca era proprio un carrozzone che si doveva spostare, insomma, è andato avanti da sé, facendo questo grande successo con Milli Carlucci e poi con le sue serate naturalmente e con la sua grande big band. Quindi, caro Paolo, io ti saluto, ti faccio i miei complimenti non solo come musicista, cantante, ma anche come ciclista, ciclista, perché insomma, ti vedo, ti seguo sui social che stai facendo un grande successo come corridore e quindi, insomma, questo ti aiuterà a tenerti in forma naturalmente, cosa che dovrei fare anch'io, ma lasciamo perdere. Un grande abbraccio Paolo, ti voglio bene come sai e forza e coraggio. Buon divertimento. Giorgio Panariello, noi ti amiamo tanto, tanto assai. Questo si dice di te, torno sabato è stato un... no? Non è colpa nostra, lo dicono di te. Allora, ci sono state delle situazioni nella mia vita che dici veramente... è qualcuno dall'altro mi vuole bene, perché proprio sempre nel momento che va male, arriva qualcuno che invece ti prende e ti porta con sé e ti risolve la vita. Credo che il mio compito sia quello di studiare, di farmi trovare pronto, di continuare a essere curioso, di guardare, di alzare sempre l'asticella, perché poi può capitare che arrivi qualcuno e ti dice non ti preoccupare, ci penso io. Giorgio è uno di quelli. Tu prima hai parlato di Piero Chiambretti, Giorgio è uno di questi, Carlo Conti, Millie Carlucci, sono un sacco di persone che... Tua sorella, Millie. Sì, però... non voglio fare quello che... però... è esattamente quello che hai detto. Io credo che se uno si comporti bene e ha studiato, si prepara, è curioso, sta zitto quando è ora di ascoltare gli altri e per... se ti fai trovare pronto, poi quando ti chiamano... sai, concludo dicendoti questo, perché è difficile parlare dopo quelle belle parole che ha speso Giorgio, a Giorgio gli devo tanto e gli voglio veramente tanto bene. Delle volte mi chiamano alle scuole a parlare ai ragazzi e io dico sempre, la mia esperienza è... si dice che il treno passa una volta solo nella vita, io invece credo che il treno passi tutti i giorni, ma si ferma anche tutti i giorni. Quindi quando ti caricano, se ti fai trovare pronto e quando sei sul treno ti comporti bene, in maniera educata, sei giusto per quella cosa lì, non ti fanno scendere. Se poi un certo momento il treno si deve fermare perché appunto una trasmissione finisce, un progetto finisce, stai tranquillo che quelli che erano su quel treno lì si ricordano di te, quindi quando riparrà un altro treno, ripartirà un altro treno, è molto facile che ti chiamino. Ma voi non lo adorate? C'è almeno una persona proprio da volergli bene, da volergli bene, ma per favore, ma sarà la tua vita, ma ti fai adorare anche dai sassi e anche ovviamente da tutte le... No, allora chiama mia moglie, sentirai invece tutte le cose che... Ma no! Quando sono in giro dovete sapere che quando sono a casa e andiamo in giro a Carpi, tante volte le persone con mia moglie dicono, signora, ma suo marito, la vuole dieci minuti a casa sua, poi dopo ne parliamo. No, solo perché non sai cambiare le lampadine, nonostante tu sia perito. Cos'era, saltava tutta la centralina di Carpi? Di Carpi, assolutamente. Assolutamente, invece la luce la sa far brillare benissimo. Ti racconto l'ultima storia. Allora, vado in bicicletta con mio fratello e un altro nostro amico, scendo giù per una discesa, quindi frenavo fortissimo perché con i freni a disco, perché avevo un po' di farmi male, arrivo e c'erano i freni a disco che zeng, 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 che toccavano contro il patto. Mi fermo e lo sposto con un dito per metterlo apposta. Mi sono bruciato il dito e tagliato e ho levato il mio fratello e mi ha detto, si vede che non hai mai lavorato nella tua vita. Questo perché io sono veramente uno che fortunatamente, quando ero piccolino, ho avuto qualcuno che mi ha detto, si vai a suonare, fai suonare, perché se no, io sono un disastro. Cambiare la lampadina? Meglio di no, anche no. No, no, proprio no. Proprio no, invece proprio sì, un'altra cartolina per il nostro Paolo Belli, sono meno di 40 secondi, è di una ragazza, abbiamo citato prima Millie Carlucci, innanzitutto le mandiamo un bacio, che è la sorella di Paolo, proprio loro sono famiglia. e c'è una cartolina di altra persona che gli vuole gran, 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 gran bene, vediamo. Hello, big brother. I miss you so much. Miss your conversations in English. Guarda che ti voglio tanto, tanto bene Paolo e lo sai già e tutto il mondo lo sa. Allora, se tu parli male inglese, colpa mia. Se io parlo male l'italiano, colpa tua. Sto scherzando, sto scherzando. Allora, noi abbiamo un'amicizia che va oltre l'amicizia e non fraintende questo, perché tra fratelli è una cosa interno. Veramente te voglio tanto bene. Non vedo l'ora di abbracciarti il più presto possibile. Ciao. I love you. Caroline Smith, meravigliosa. Eccoli qua, ballando con le stelle. Stupendi. Adesso abbiamo un'altra cartolina per Paolo Belli. Sto correndo, sto facendo come se corressi in bicicletta. Meglio di no. Non arriverei mai neanche a 200 metri. Attenzione signori, c'è una cartolina per il nostro Paolo e vi riporto a teatro. Che cosa dirà di lui, per esempio, il regista di questo meraviglioso spettacolo? Vediamo. Ciao Paolo, sono molto contento di poterti salutare perché mi dà la possibilità di dire pubblicamente che sei un uomo e un artista molto coraggioso perché affrontare una commedia non è una cosa facile. Ne hai fatto tanto di spettacolo, abbiamo fatto tante cose insieme anche, però la commedia era la tua prima prova di una commedia e l'hai superata egregiamente. Per cui bravo e avanti così perché sono sicuro che ti darà grandi soddisfazioni, questa commedia ci darà grandi soddisfazioni. Avanti così. Ciao Paolo. Allora, Alberto Dirisio, stavo facendo dei segnali a proposito mentre Alberto Dirisio parlava. Alberto Dirisio è questa commedia, pur di far commedia, che è intanto un successo ovunque si fermi in qualsiasi teatro vada e che ti vede in un ruolo che in fondo è arrivati a questo punto la somma, lo dicevamo prima, di tutto ciò che tu sei riuscito a fare. Allora, innanzitutto è stato bravo Alberto, sono bravi i miei musicisti ad aver assecondato un mio desiderio. Desideravo fare lo show a 360 gradi, io vengo da la scuola, poi non so se ho imparato bene, anzi sicuramente no, però vengo da dei maestri, sono Arbore, Iannacci, Carosone, Buscaglione, insomma vengo da quella scuola e ho sempre desiderato fare appunto l'entertainer, non solo tra virgolette il cantante, anche se come cantante... Ti salti in banco, diceva Iannacci. Esattamente, Alberto ha scritto questa cosa bellissima, dove recitano tutto il mio gruppo di lavoro, tutti i miei musicisti e mai però avrei immaginato che alla fine dello spettacolo la gente si alza i piedi e fa la stand, io pensavo che fosse fretta di andare a casa, invece fanno la stand di govation. Lui è proprio così, ma lo sapete perfettamente. È vero, è vero. E allora doveva, era nato per gioco, dovevamo fare dieci tappe e invece stiamo girando da due anni ormai questa parte, stiamo continuando il tour. È il tuo giro d'Italia, un signore. Sì, perché finché me ce lo fanno fare, lo faremo perché è bellissimo. Fa morire da ridere, c'è tanta musica chiaramente e racconto un po' tutto quello che faccio, cioè la persona che ha esaudito un suo sogno e quindi racconto il fatto che la gente deve continuare a sognare. Signori, attenzione. Bologna, 3 aprile, teatro delle celebrazioni. Roma, 5 aprile, al teatro olimpico. Pur di far commedia, Paolo Belli, pur di trattenerlo anche dopo la pubblicità perché abbiamo ancora delle cose da dire, chiudete le porte dello studio, serratele da fuori, non si riesce. A tra poco, l'ora solare, Paolo Belli. Ma voi volete vedere 30 secondi, solo 30 secondi di Pur di far commedia? Paolo Belli, signori. E' you? Sei quello della televisione? Sì. Sei quello della nazionale cantante? Sì. Are you? Sì. Welcome to America. La musica è davvero una cosa meravigliosa. Oh, voglia di ballare con te. Paolo Belli. Allora, in aggiunta a tutto questo, tu, tu ed Anna, siete giovanissimi nonni di due meravigliosi bambini che sono nati da un meraviglioso bambino diventato ragazzo, che si chiama Vladik e che è un altro capitolo stupendo della vostra vita. Voi avete adottato. Abbiamo preso in affine. Sì. Ospitato. Ospitato. Solo che è stato con noi 20 anni. Ecco. Grazie a Dio. Ecco. E quindi, insomma, è stato un ospite meraviglioso che una decina d'anni fa ha deciso di prendere giustamente, insomma, poteva aspettare altri 30 anni prima di prendere… Ah, se stessi altri 30 anni poteva aspettarli. Decide di prendere in mano la sua vita ed è tornato da noi sei mesi fa con queste due meraviglie, incredibili dove io sono diventato scemo veramente, cioè proprio vivo per loro, avere nipote è la cosa più bella del mondo, ti fa tornare piccolino, poi uno come me, figurati che sono un Peter Pan, quindi gioco con loro, la cosa è bellissima. Mi ricordo la prima volta che parlai con mio fratello quando era diventato nonno e diceva no, ma sei diventato scemo, cioè non sei più te stesso. E adesso quando lo vedo dico, oh, scusa, perché mi ricordo cosa ti avevo detto. E per chi, per chi, beh, insomma, per chi… Però basta, parla di vita privata, finisce lì, eh? Finisce lì, per carità. Comunque, questo era bambino, Vladi, che erano i bambini che arrivavano dall'incubo di Cernobil ed erano bambini che cercavano nel nostro paese l'abbraccio di famiglie che li facessero sentire veramente a casa. Questi sono Paolo e Deanna Belli. Nel 2023, in occasione della 22esima giornata nazionale del sollievo, parliamo dell'Associazione nazionale Gigi Ghirotti, alla quale sapete che siamo tutti noi legatissimi, Paolo Belli riceve il premio Fabrizio Frizzi, l'arte del sollievo. Fabrizio Frizzi, esisteva ed esiste sempre, secondo me, la Frizzi-terapia, quando basta vederlo e rivederlo e subito il cuore si apre, come se no, Fabrizio non se ne è mai andato via. Fabrizio, per te è stato un altro… Fabrizio, tra le mille cose che mi ha regalato, perché lui era proprio generoso, mi ha confermato una cosa, siccome io sono stato preso di mira perché mi chiamano a Teleton, vado a Teleton, mi chiamano alla ricerca, vado, mi chiamano… ma fondamentalmente è perché mi sento poi in dentro, no? Perché sei buono, Paolo. E quindi… Come? Sei buono. No, 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 ce l'ho dentro, lo devo fare. E allora un giorno parlai con Fabrizio e dicevo, Fabrizio, però questa cosa qua, sai, mi hanno detto, ma tu lo fai perché… no, io lo faccio perché me lo sento. E siccome vedo che anche tu fai la stessa cosa, Fabrizio finiva un programma, prendeva il suo scuterino e andava a fare una manifestazione, tu lo sai perché ci hai collaborato tante volte, ha detto, ma Fabrizio, ma come mi devo comportare? Ha detto, ma scusa, tu lo fai perché ti piace? E allora fallo. Perché, signori, la bontà sale in cielo, sale. A proposito, io ho parlato di friziterapia. C'è stato un padiglione pediatrico con annessi medici che hanno detto a Paolo Belli, ma lo sa che lei è la nostra Belli-terapia? Quando lei arriva, quando lei suona, qui tutto funziona meglio. Paolo Belli, con un applauso immenso per la sua vita, per come è e per tutto quello che ancora ci regalerà. Io ringrazio te, ringrazio tutta la tua produzione. Se sapevo così, non venivo, perché è difficile rimanere tranquilli. Se vuoi vengo un'altra volta, ma parliamo di musica, parliamo di musica. Oh, quando vuoi, Paolo. Non parliamo della mia vita privata. Quando vuoi, Paolo, non parli. Però grazie e ti invito. Sì, signore. A te e tutta la tua produzione, a tutti coloro che sono a casa, a venire o il 3 aprile al celebrazione a Bologna o il 5 aprile al Teatro Olimpico di Roma. E sono talmente così tranquillo e sereno nel dirvi che lo spettacolo è bellissimo, vi piacerà tantissimo, che se non vi piacerà io vi rimborserò i biglietti. Paolo Belli! Signori, quei soldi non li vedremo mai. Andiamo a Napoli, andate a vedere insieme a noi che cosa un baritono del Teatro San Carlo sia stato capace e sia capace di fare. Guardate, musica, musica, musica. Paolo Belli. Sono Sergio Valentino, sono artista del Teatro San Carlo di Napoli, ma soprattutto sono un appassionato e innamorato di Napoli. Quello che sto facendo in questo periodo da almeno un anno è scendere quasi ogni mattina per ripulire le mura greche di Piazza Bellini e raccogliere tutto quello che la sera la Movida lascia come souvenir. Parliamo di bicchierini, cannucce, cicche di sigarette, moltissime bottiglie, soprattutto schiantate. Faccio una differenziata come posso, soprattutto perché cerco di gettare il vetro nei cassonetti appositi e a volte è davvero estenuante. Il mio lavoro in teatro mi permette di gestire il tempo della giornata in maniera da poter essere qua. Il motivo per cui lo faccio è amore per la mia città, piacere nel sapere che i turisti vengano qui e ammirino reperti e non un ricettacolo, soprattutto per poter lasciare a mia figlia una città migliore. È il mio testamento morale. In base al lavoro che c'è da fare, cioè al quantitativo di materiale, ci posso impegnare dall'ora all'ora e mezza. Mi capita spesso di essere fermato da curiosi, da persone che ringraziano, ma soprattutto da coloro che vogliono ammirare una città più pulita. Gli addetti della nettezza romana che si occupano della parte civile della strada mi salutano affettuosamente e spesso mi aiutano. Ho avuto vari nomignoli nella mia vita. Ora sono il baritono con la scopa. Tempo fa ero l'uomo col gatto sulla spalla, perché giravo per Napoli con il mio micio Rossini che mi faceva da alter ego ed era un po' lo spirito guida. Adesso come spirito guida ho questa meravigliosa micia, Matti, che mi assiste durante il lavoro e che apprezza quello che faccio. E lo capisco perché si lascia coccolare e carezzare. Come nella musica bisogna essere intonati, si può dare un contributo altrettanto intonato per lasciare ai posteri quello che ci è stato dato in custodia. E da Napoli, da questa storia bellissima, bellissima, grazie maestro, ovviamente è stato un onore poter incontrare anche la sua storia, vi porto a Roma, a Roma, quando si dice cantiamo tutti in coro, il coro per principio mette insieme tante persone, no? E automaticamente diventa integrazione, automaticamente diventa il coro, come le gite scolastiche dove a un certo punto cantavamo tutti, ma qui invece c'è un maestro del coro, mica un coro così. Il coro si chiama Musiche, col K, di classe. Il direttore del coro è il maestro Luca Ceccarelli, maestro buongiorno. Grazie. Ben arrivato. Accanto a lui i suoi cantanti abbiamo Ambra Benedetti. Buongiorno Ambra. Abbiamo Salvatore Di Fede, eccolo qui. E abbiamo Guido Verde, eccolo in travatta. Allora, intanto se abbiamo delle fotografie, e le abbiamo per queste fotografie, voglio ringraziare tantissimo Laura De Meo, che ce le ha gentilmente, ci ha dato la possibilità di utilizzarle. Allora, maestro Ceccarelli, altro che cantare tutti quanti in gita scolastica, voi, e guardatevi qua, voi siete un coro a tutti gli effetti. L'idea di creare questo coro, come è venuta? È nata una decina di anni fa, io sono rifrascati, gestisco una fraschetta di famiglia, un locale storico, insieme a mio fratello e mio padre, e Ambra, che oggi è qui accanto a me, è una cliente, era una cliente idee, una cliente storica, anche lavorato da noi, devo dire, qualche volta. E con il papà, Paolo, una sera, lui sapeva che io mi occupavo, dirigo cori, orchestre, di professione, mi dice, ma perché non organizziamo, non facciamo qualcosa? E così è nato questo progetto, musica di classe, all'inizio pochi ragazzi, poi siamo cresciuti nel tempo, e abbiamo avuto qualche problema durante il Covid, perché ovviamente tutti i cori, ovviamente, però ci stiamo riprendendo e stiamo diventando ancora più bravi. Sempre più bravi, e adesso arriviamo da tutti, Ambra, lo dico, si vede anche perché ha delle belle gambe, e ha fatto tanta scuola di danza, no? Sì, sì. Poi ad un certo punto, Ambra posso darti del tu, vero? Certo. Posso darli, grazie. E ad un certo punto, in questo lavoro dentro al coro, hai trovato ciò che ti piacesse di più fare? Sì, diciamo che il canto è la mia passione, come il ballo. Quanto è ballo sono la tua passione? Sì, perfetto. Ora, ovviamente, ovviamente, scusate, perdonatemi, ovviamente, Luca, le canzoni, il canto che voi studiate, le lezioni, diciamola tutta, sono un mettere insieme tante situazioni diverse, gli orari, quindi non è facile tenere in piedi un coro. Però questo coro sta funzionando in maniera... Sì, sì, funziona, ripeto, da più di dieci anni, come in tutti i cori, come in tutti i gruppi, diciamo, ci sono delle difficoltà, anche per il loro gruppo, ma insomma, diciamo il tempo a disposizione, ecco, la difficoltà maggiore è il tempo che è molto ristretto. Il tempo non lo compriamo mai, il tempo, è quello purtroppo abbiamo difficoltà. Guardatevi un attimo in questa fotografia. Data la stella di Natale, devo dedurre che questo sia un momento di canto natalizio. I ragazzi imparano, ovviamente, stiamo dicendo delle cose di una banalità folle, maestro, però per me è importante sottolineare questo, perché abbiamo parlato di integrazione. I ragazzi, imparando la canzone, imparando ciò che devono cantare, imparano anche a stare insieme, no? Che è esattamente quello che accade in tutti i cori del mondo, ecco, è meglio sottolinearla in questa maniera, in tutti i cori del mondo. Sì, esattamente come per gli altri gruppi che dirigo, che ho la fortuna e il piacere di dirigere, anche per loro è esattamente come state dicendo, cioè imparano a cantare, ognuno fa il meglio che può, il mio obiettivo è quello di tirare fuori da loro, ovviamente, il meglio che possono dare. Ci sono ragazzi che sono come dall'inizio, come Ambra, qualcuno che è arrivato, per esempio Guido è arrivato da pochissimo, da un anno circa, Salvatore da qualche anno e alcuni magari hanno più facilità nel canto, per esempio noi abbiamo un ragazzo che è figlio di musicisti e quindi ha respirato fin da molto giovane il linguaggio musicale, quindi ha molta facilità nel canto Tommaso, altri hanno più difficoltà, ma insomma... Però Maestro Ceccarelli, se volete la sfida è quella proprio di scegliere anche chi abbia più difficoltà e portarlo al risultato. Allora, il risultato è... A me piace sempre darvi il minutaggio, scusate prima per i grandi rumori, ma stavo sistemando da sola il microfono, non si fa, ma io l'ho fatto. Abbiamo il coro musiché di un minuto, un minuto e dieci secondi. Godetevi di tutti, perché sono veramente straordinari. Guardate. 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 che non riescono male, 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 che non riescono male. Tieni il coraggio di essere male, guardate, fateglielo anche da casa un applauso, bravi, 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 davvero bravi, bravi, bravi. Allora maestro posso fare l'appello di tutti? Come no, ci mancherebbe. Allora anche oggi chi non è potuto essere qui perché diciamola tutta, noi volevamo invitarvi tutti quanti, poi avremmo rischiato un'invasione dello studio, quindi insomma non è stata cattiva volontà, non avremmo avuto abbastanza posti a sedere per Martina Boscia, ole, applauso, Nicola Scolfaloni, Sara del Signore, come sopra, Tommaso Dipinto, come sopra, Sebastiano Fuxas, applauso, Emanuele Raffaelli, Lorenzo Ricci e Giovanna Tarabbo, sono questi. Maestro, lei l'ha detto prima, diplomatissima al conservatorio, la musica è il suo lavoro, è la sua passione, è la sua passione che è diventata un lavoro, come si convince ragazzi, tutti noi abbiamo senso musicale, ma come si convincono ragazzi che forse non vorrebbero neanche esprimersi attraverso la canzone, viceversa buttarsi e ad andare in ritmo con gli altri? Come si convince? Ma in realtà loro partono già venendo, no, presso la nostra scuola, partono già con l'idea, con la voglia di cantare, è difficile tirarli giù dal palco, è il contrario, quello sicuramente. Fantastico. No, in realtà è piuttosto facile con loro, nel senso che sicuramente per distacco loro sono il coro, non me ne vogliono gli altri, ovviamente, che per energia, per voglia di cantare, primeggiano tra tutti proprio. Bravo maestro, però questo è tanto merito suo, è merito loro. È merito soprattutto loro, è merito dei genitori che li scarrozzano da tutta Roma. Non ci sono dubbi. Ambra, c'è emozione durante i concerti? Sì, molto. Tutte quelle facce là davanti che ci guardano, non lo dice. Diciamo che sono molto abituata tramite la danza e il canto, però la canto mi è molto emozionata tantissimo perché mi piace cantare. Ti piace cantare? Quando arriva l'applauso, Ambra, che effetto fa? Un po' di emozione c'era, però devo stare sempre più calma e devo sempre concentrarmi tutto. Concentrarti su quello che devi fare, signori, giustamente, correttamente. Allora, Ambra, ancora con te. Cantare con tutti gli altri, no? È bellissimo, l'abbiamo visto, però è complicato. Beh, quello che diceva mio maestro, ti dice piano piano se lo usiamo a migliorare ancora molto di più. Dobbiamo sempre imparare a cantare bene e facciamo sintonia insieme, pensare un'amicizia, carcherare. Quindi nascono anche delle belle amicizie? Sì. Ovviamente, questa è una cosa, signori, che noi volevamo raccontarvi. Quando prendete l'applauso, è bello? Sì. Questo è l'uomo del sì, signori, guardate, è fantastico. Abbiamo, ve la racconto questa, si è presentato con una giacca e gli abbiamo detto, vuoi levare la giacca? No. E dopo l'ha tolta. È emozionante ricevere l'applauso? Sì. Sapete perché? Perché non ci sono altre parole da sciupare, quando un coro come questo sale sul palco e canta. Sì, l'applauso è emozionante e loro l'applauso se lo meritano tutti. Grazie, grazie, grazie di essere stati con noi. Se volete, sono sicura che sia così, rivedere questa puntata, dovete fare nient'altro che sul vostro tablet, sul vostro telefonino, ormai lo sapete, scaricare la nostra app Play 2000. Perché? Perché risentir, parlare di musica, fa così bene al cuore. Grazie a tutti, signori. Questa è l'ora soluzione. Bravi! Bravi ragazzi!